Trasmettono su onde corte e criptate. Stanno entrando, ma non so da dove. Capito. Do inizio al piano B. Fa uscire la squadra medica. Ora. Ora. Il vice ispettore Angel capì in un millesimo di secondo che avevano perso un'altra battaglia. Quella maschera significava che stavano gettando due uomini in pasto ai leoni. E anche che chi aveva ideato quella rapina era più intelligente e aveva più immaginazione dei poliziotti, dei servizi e dell'unità di intervento. E quando ti anticipano così, bisogna correre. Dobbiamo andarcene, ora. Signorina, noi qui abbiamo finito. Possiamo andarcene, per favore? Sì. Sì? Certamente. Seguitemi pure. Un minuto e trenta secondi. Che cos'è? Disturbatori di frequenza. Suarez, mi ricevi? Usano disturbatori di frequenza. Credo che perderemo la comunicazione. Usano disturbatori. Perdiamo la comunicazione. Suarez. Addio. 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 Portate i nostri saluti all'esterno. Suarez. Centro di comando, mi ricevete? Centro di comando, mi ricevete? E ora? Ispettore, i chirurghi stanno uscendo. Andiamo, forza! Ankel sta correndo, qualcosa non va. Annullare! Hanno cambiato le maschere. Non sono più di da lì. Sarà una carneficina. Cosa? Attenzione. Annullare l'entrata. Suarez, mi ricevi? Suarez, mi ricevi? Hanno cambiato le maschere. C'è un'interferenza. Centro di comando, non vi sento. Non portano maschere di da lì. È un suicidio, cazzo. Morti! Hanno cambiato le maschere. Non sono più di da lì. Attenzione, mi ricevi? Annullare l'entrata. Annulliamo. Cazzo! Annulliamo.